Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti mostro questo appartamento ad ingresso indipendente. Siamo in Borgo e più precisamente nella zona di Via Fornarina. L'appartamento è moderno ed è dotato di ottime rifiniture. Dal disimpegno accediamo alle due camere da letto, al bagno e ad un comodo ripostiglio. Ah, ovviamente c'è l'aria condizionata. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!